che fatica, era un po' che non ci vedevamo ciao stelle, ciao lettrici e lettori bentornati su Misfiction Books io sono Tiffany e oggi ho all'ingrato compito di parlarvi di Accord of Silver Flames che è il nuovo libro di Sarah J. Maas sapete che insieme ad altre autrici e altri autori è una di quelle che affrontiamo spesso su questo canale per un motivo molto specifico ovvero io insieme a suggerimenti molto molto particolari suggerimenti inclusivi suggerimenti sicuramente di letture che hanno a che fare con tanti temi ai quali tengo ci tengo anche un pochino a decostruire le cose invece estremamente popolari perché? Perché appunto perché vendono molto appunto perché sono popolari si rischia un po' l'effetto Twilight cioè che passi tutto molto in secondo piano e rischiamo che alcune cose diventino talmente popolari talmente ininfluenti durante la lettura che a un certo punto vengono assorbite è un po' la stessa cosa che succede magari con Cassandra Clare è la stessa cosa che appunto ripeto succede con Twilight che spesso insomma ho letto tra i vari commenti un po' varie persone un po' stizzite dicendo che non è vero che insomma Twilight viene assorbito dalle ragazze dai ragazzi eccetera che per l'amore del cielo può non essere così ma non possiamo nemmeno escluderlo allo stesso tempo poi ci tengo anche a dire che il fatto che questi prodotti continuino ad essere estremamente popolari a discapito di cose molto popolari senza decostruirle un attimo secondo me può essere problematico e questa era la prima delle tre premesse che devo farvi perché come sempre quando io parlo di queste opere che sono molto amate finisco per diventare un punching ball e non è una cosa molto carina né lo gradisco e quindi davvero di nuovo ci tengo a dire che questa è una recensione che tratterà temi anche molto seri a un certo punto su un'opera che io ho letto insomma siamo nel mondo di Sarah J Maas A Court of A Court of Thorns and Rose è iniziata così la serie ne abbiamo parlato inizialmente ho fatto diverse recensioni anche legate a questa serie alle problematiche di questa serie e in generale dell'autrice che io non voglio nemmeno affrontare con la stessa serietà con cui affronto un libro che possiamo non considerare diciamo leggero romance con elementi trash sicuramente eccetera eccetera però essendo un libro estremamente popolare un'autrice molto popolare che in qualche modo setta determinati standard dentro il genere diciamo che diventa un po' diventa poi importante secondo me parlarne però ci tengo davvero a dire che questa è una recensione su ciò che c'è dentro il libro e se questo libro a voi è piaciuto questa recensione non parla assolutamente di voi come nessuna recensione parla di voi come lettori e lettrici ma parla dell'opera quindi ci sono aspetti che a me hanno convinto altri che non hanno convinto altri che mi hanno fatto molto arrabbiare ovviamente questo riflette ciò che c'è dentro questo libro e non ciò che ci sta fuori quindi né un giudizio sui lettori e le lettrici che lo hanno amato né sull'intelligenza delle persone né sui gusti delle persone cioè a me di quegli aspetti lì non frega assolutamente nulla lo dico sempre ci possono piacere cose orribili cose brutte cose problematiche e quello è normale cioè non è che vediamo solo cose perfettamente allineate con quello in cui crediamo possiamo anche apprezzare delle cose anche per alcuni aspetti rispetto ad altre questo di nuovo non è qualcosa che riguarda voi come lettori ma riguarda l'opera dico sempre anche che come ci sono recensioni positive ci sono un sacco di persone che parlano con entusiasmo del libro c'è allo stesso tempo un po' la necessità di vederne anche aspetti problematici entrambi le modalità entrambi i video entrambi i contenuti hanno la stessa identica validità lo stesso identico peso e non è che una è più sbagliata dell'altra non è che una è più giusta dell'altra come in ogni libro è giusto parlarne bene è giusto parlarne male di nuovo la recensione poi nasce nei riguardi del libro non riguarda ciò che ci sta fuori dal libro i lettori e le lettrici non è sicuramente un contenuto che va contro qualcuno o qualcuna perché non è così che nascono i miei contenuti a me non interessa quell'aspetto ripeto a me sono sempre piaciute cose orrende in alcuni casi tre scissime problematiche eppure le vedo con lucidità e ho contezza di questi aspetti non è che mi sento giudicata se una persona distrugge cose che io magari in passato o tuttora amo e apprezzo nonostante mi renda conto che siano problematiche perché è legittimo parlare in questi termini di alcune opere e dirò anche una cosa un po' fastidina magari però se vi sentite giudicate o in qualche modo negativizzate da questo tipo di contenuto questo parla più di voi che di me perché io legittimamente posso criticare un'opera come critico tante altre come ne distruggo tante altre come ne apprezzo tante altre cioè io parlo del libro non delle persone e aggiungo l'ultima premessa cioè se vi state chiedendo perché pur non apprezzando il lavoro della massa io continuo a leggerla innanzitutto la risposta più banale è perché posso è legittimo la seconda risposta è perché ne ho voglia e a me stimola tantissimo leggere autori e autrici problematiche per me per quello che io intendo come problematico perché mi dà molti più strumenti per decodificare alcune cose per riuscire a guardare alcuni aspetti che magari difficilmente ecco riesco a spiegare molto meglio quando parlo invece di opere che secondo me si concentrano su altre cose o comunque sono più lineari magari positive ecco mi dà davvero un sacco di stimoli di discussione che molto spesso difficilmente si riesce a portare sul mio canale o comunque riesco a portare riguardo alla letteratura young adult che poi in questo caso non è nemmeno più young adult eccetera eccetera però insomma la legittimità del poterlo fare è nelle prerogative di chiunque abbia un canale e cioè io questa cosa qui sto facendo premesse su una roba che vabbè diciamo che queste premesse secondo me neanche andrebbero fatte perché tutte le volte le faccio e tutte le volte poi mi trovo bullizzata online con un sacco di frecciatine davvero se quello che io spiegherò in questo video voi lo avete percepito in una maniera diversa io sono molto contenta di confrontarmi con voi sui temi che tiro fuori da questa cosa qua non su altre cose perché secondo me sono ininfluenti adotterò anche una serie di toni durante il video come in tutti i miei video cioè a volte sarò molto ironica a volte sarò molto seria perché chiaramente ci sono cose serie che possono essere anche spiegate tramite l'ironia e ne ho tutto il diritto quindi se queste cose non vi piacciono io vi invito semplicemente a schippare il video ok? se queste cose vi danno fastidio schippate il video perché dire a me cosa posso e non posso fare nemmeno mamma ok? direi che dopo queste lunghissime premesse inutili secondo me perché tanto andrà come già immagino direi di iniziare perché quella che voglio fare non è assolutamente una critica sterile e sembra che stiamo partendo per la guerra in Vietnam con questo video ma invece vi dirò una cosa alcune cose di A Court of Silver Flames a me sono piaciute sono molto poche ma mi sono piaciute e alcune sono anche importanti e quindi un po' come al solito io dividerò questa recensione in cose positive e cose negative prima di diciamo inoltrarci dentro tutto trigger warning giganteschi perché? perché questo libro affronta delle tematiche molto pesanti non che nella serie non si siano affrontate nonostante Akomaf sia stato fondamentalmente annullato da Akowar perché le tematiche di Akomaf in Akowar sono state proprio sputate addosso e non è vero niente di quello che avete letto prima è tutto falso però al di là di tutto in questo libro trattiamo cose davvero pesanti da un lato c'è la questione della violenza capita a me che non mi posso fare bloccare il video dall'altro trattiamo la questione della sindrome post-traumatica della depressione della salute mentale e di tante cose che riguardano questi temi che come potete immaginare non sono sicuramente un ciel sereno con un bel sole che splende e quindi si affrontano cose abbastanza pesanti in una maniera abbastanza cruda quindi insomma premesse doverose da fare prima di inoltrarci in tutto questo video che vi premetto sarà spoiler molto spoiler quindi se non avete letto A Court of Silver Flames mio consiglio cioè fuggite finché siete in tempo se lo volete leggere se non ve ne frega niente ma vi interessa la discussione potete rimanere qua insomma queste premesse mi sembravano un po' doverose direi che prima di introdurci nel discorso io mi lascerei alle spalle quelle cose che da Sarah J. Maas io non mi aspetto nel senso non mi aspetto che Sarah J. Maas riesca a scrivere cose inclusive perché non è un'autrice inclusiva è un'autrice che vede solo cose bianche che vede cose solo etero è super allonormativa eteronormativa e bianca white ok quindi non è da lei che io mi aspetto un'inclusività di altre etnie di altre sessualità eccetera perché se lo fa poi lo fa come tappa buchi e questo diventa un problema cioè non è da questo che mi aspetto da lei cioè leggo autrici e autori che sono molto più capaci da questi punti di vista qua davvero è banale quando vuoi leggere autrici e autori inclusive leggi altre voci non leggi Sarah J. Maas però brevemente come ho sempre detto lo dico da diversi video perché insomma io sono una super fan di Nesta che è la protagonista di A Court of Silver Frames e quindi io ero discretamente carica di leggere questo libro vi sembrerà pazzo folle assurdo nonostante questi 20 minuti di premesse ma Nesta è davvero un personaggio che mi piace nel quale io davvero rivedo moltissimo la Tiffany di 16-17 anni stessa depre stessa rabbia ma forse io ero peggio di Nesta stessa sintomi autodistruttivi stesse dinamiche per alcuni versi non tutti però insomma io mi rivedo molto in Nesta è un personaggio che mi piace soprattutto è un personaggio che trovo leggermente più interessante di tutti gli altri perché alla fine del terzo libro ancora confermato con la novella che è uscita in seguito diciamo che secondo me si era arrivati a un piattume totale ecco invece Nesta mi è sempre sembrato un personaggio interessante e quindi per questo io ero molto carica di leggere un libro su di lei perché è un personaggio che secondo me è interessante o ha del potenziale su questo poi torneremo dopo perché ci sono aspetti positivi e negativi secondo me riguardo al personaggio di Nesta quindi io davvero direi di introdurvi un attimo brevemente A Court of Silver Flames è un quarto volume potremmo dire se contiamo la novella dove diciamo alla fine della trilogia di A Court of Thorns and Roses che ha seguito un po' la storia di Faire e Riesand e varie altre personaggi e personaggi e passiamo a una fase successiva ovvero è finita la guerra con il re di Ebern perché ovviamente non aveva nemmeno un nome era il re di Ebern dopodiché abbiamo distrutto il calderone poi si è ricostruito poi un sacco di madonna eccetera eccetera Nesta ed Elen sono state trasformate in Fae contro la loro volontà o almeno sicuramente Nesta è Elen ma non ha una personalità quindi non ci è dato sapere comunque in ogni caso seguiamo la storia di Nesta che dopo essere stata trasformata in Fae questa cosa per lei è stata traumatica per diversi motivi intanto lei rifiuta e odia ha sempre odiato i Fae quindi questa cosa per lei è un po' inaccettabile cioè lei non vuole essere quello che è diventata in più ha passato davvero diversi traumi durante lo scontro finale la guerra finale quello che è stato con The Cauldron quindi insomma ha perso il padre l'è stata trasformata ha dovuto salvare Elen si è sacrificato comunque ha sacrificato Cassian per salvare tutta questa è un gran casino vabbè morale della favola noi troviamo Nesta distrutta da queste ultime vicende una Nesta che è evidente sta vivendo un periodo sia di stress post-traumatico che di depressione in fase davvero acuta quindi di down veramente gravissimo e per un anno l'hanno lasciata fare insomma l'inner circle di Fair Reason eccetera eccetera l'ha lasciata fare nella sua diciamo spirale autodistruttiva Nesta ha iniziato a bere ha iniziato a bere una serie di rapporti casuali un po' con la qualunque sotto effetto dell'alcol eccetera eccetera e da lì in poi a un certo punto l'inner circle la mette di fronte al fatto che lei si deve dare una svegliata e superare questa fase ecco perché sta spendendo i loro soldi su questi aspetti ci torno dopo perché nera io sono nera dalla rabbia proprio cioè sono ok ma ci torniamo dopo partiamo dalle cose positive non sono tante come sempre però io ci tenevo a dirvene alcune innanzitutto io sono in un periodo di mega slump da inizio anno ed è anche il motivo per cui latitano molti video su questo canale perché non ho veramente tempo di fare nulla ho il cervello completamente in pappa e leggere è diventato un po' faticoso è diventato un'attività che proprio non riesco a fare ecco non ho la testa eccetera la cosa buona della Sara è che nonostante ci siano grossi evidenti problemi nella sua scrittura come ti tira fuori lei dalle slump nessuno mai per me cioè lei ha questo stile davvero molto leggero molto scorrevole eccetera eccetera che comunque si fa seguire anche senza troppa attenzione anche senza dover davvero governare ogni capitolo ecco dal punto di vista quanto meno di lucidità allo stesso tempo a me simula moltissimo come un po' vi avevo già accennato inizialmente ovvero leggere questo tipo di scrittura questo tipo di contenuti e queste dinamiche davvero mi ha tirata fuori dalla slump io ho letto questo libro in due giorni non mi capitava davvero da un sacco di tempo quindi comunque alla fine della fiera nonostante alcune cose sulla scrittura poi le vediamo anche dopo però devo dire che per me davvero è stato una cosa che comunque sento super positiva perché alla fine della fiera un'autrice che è capace di tirarti fuori da una slump in due giorni a me capita di rado probabilmente solo quando escono libri che io amo molto però allo stesso tempo sbam sono davvero abbastanza grata a questo libro per avermi fatta un po' ritornare in superficie proprio perché poi tra l'altro mi dà davvero moltissimi argomenti di discussione trattare questi questi libri perché leggere cose di questo tipo è davvero stimolante da un certo punto di vista non tanto perché ci sono cose trattate bene o nella maniera in cui io me le aspetto anzi esattamente il contrario cioè ci sono alcune cose positive in dinamiche che secondo me sono estremamente problematiche che diciamo il pubblico apprezza o non apprezza quello è scontato in secondo piano però allo stesso tempo diciamo che davvero danno un sacco di temi e argomenti di discussione quindi per me questo al di là di tutto è positivo cioè trovo comunque Mass più interessante addirittura di una Cassandra Clare sicuramente è stimolante leggere libri dove ci sono dinamiche che vanno un po' decostruite ok io sento la necessità di decostruire perché in mezzo al coro di tutti wow bellissimo super fan o in mezzo al che merda fa schifo ecco a me interessa trattare le varie dinamiche e a me personalmente stimola tantissimo quindi cioè questi due aspetti io li riconosco come super positivi e non è da tutti cioè non ci sono tanti autori e tante autrici che sono in grado di darmi così tanto materiale a parte queste considerazioni che riguardano più me che ovviamente l'opera in sé ci sono due aspetti che secondo me sono molto positivi o comunque che a me sono piaciuti molto anche se con risvolti poi positivi e negativi il primo ripeto che ve l'avevo già anticipato è Nesta Nesta è un personaggio davvero con il quale io sento una certa dose di immedesimazione e verso il quale in questo libro ne ho sentita ancora di più il problema è che gestire un personaggio come Nesta è complicato perché un attimo diciamo renderlo o solo antipatica o solo negativa o solo estremizzata o solo diciamo non nella maniera non nella stratificazione complessa che può richiedere avere a che fare con un personaggio estremamente forte estremamente duro estremamente rabbioso in un periodo di depressione in un periodo di sindrome post-traumatica che sicuramente che ovviamente tendono ad inimicarsi il pubblico e non credo che Sarah J. Ma sia riuscito fino in fondo a dare giustizia a un personaggio come Nesta perché è difficile ed è molto complicato e diciamo non è proprio la più brava scrittrice che ci sia in questo momento quindi chiaramente è complicato però nonostante tutte le pecche che ci sono lungo il libro riguardo il suo personaggio per me continua ad essere un personaggio che io davvero ho apprezzato che io davvero riesco fino in fondo a volerle bene in qualche modo e ho un'immedesimazione molto forte nei suoi confronti cioè i danni fatti alla sua età tutto ciò che riguarda insomma in qualche modo le reazioni riguarda la depressione eccetera eccetera insomma mi ci sono rivista molto e mi è piaciuta in qualche modo la sua evoluzione molti aspetti li ho apprezzati le varie consapevolezze secondo me sono assolutamente valide e legittime di quello che lei trova a un certo punto del suo percorso non credo che tutto sia stato completamente corretto anzi ci sono molte problematiche delle quali parliamo dopo però allo stesso tempo nesta nel cuore cioè per me io sono una sua stan e quindi insomma so che è un personaggio difficile da digerire che non tutti hanno apprezzato dall'inizio io sono tre libri che dico che forza nesta e quindi insomma questo aspetto qua devo dire un po' di giustizia ce lo ha anche avuto ecco diciamo che gestire un personaggio del genere è molto complesso o comunque trasmettere la complessità di un personaggio del genere è complicato e non che Sara ce la faccia anzi ci sono tante cose che non riesce proprio a gestire e diventa molto piatto su alcuni temi sono sempre AB 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 ma un po' come tutti gli altri personaggi non si va a una stratificazione un pelo ulteriore allo stesso tempo però io non mi sento di buttare via assolutamente il modo in cui nesta viene gestita dentro quest'opera o almeno non del tutto ecco assolutamente dopodiché io ho apprezzato una cosa anche se è stata fatta passare con una luce abbastanza negativa in tutto il volume ovvero il fatto che nesta sia uno dei primi personaggi non è neanche giusto dire young adult perché non è più uno young adult e dopo parliamo anche di questo aspetto qui però sicuramente in un ambiente di questo tipo in un fantasy di questo tipo che nasce con un occhio verso i ragazzi le ragazze più giovani e che tuttora rimangono il bacino principale di questa storia che è molto sex positive è sex positive non per ragioni che ci vengono fornite come giuste cioè nel senso non è una persona che alla fine vive la sua vita sessuale in una maniera totalmente libera e compie le sue scelte senza che nessuno la debba giudicare anzi è molto giudicata proprio per queste scelte soprattutto da tutti i santi dell'inner circle che le girano attorno quindi è una finta positività quella che ci viene proposta però alla fine mi porto a casa che è uno dei pochi personaggi che ha una vita sessuale attiva non per forza legata a delle relazioni e diciamo un po' la briciolina ce la portiamo a casa ecco e questa cosa qui ovviamente però viene molto demonizzata all'interno del libro soprattutto da chi le sta attorno e soprattutto viene giudicata moltissimo anche ovviamente dai fe ci viene splittellata la solita cosa che i fe sono molto aggressivi sono quasi animali e quindi comunque ragionano in maniera istintiva ok bla 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 allo stesso tempo però ce la portiamo a casa vogliamo portarcela a casa ce la portiamo a casa positivamente anche perché non dimentichiamoci che questa sua diciamo vita sessuale molto attiva che ripeto io non ho ritrovato in tanti volumi con tante personaggi legate comunque a un pubblico più giovane ok quindi non un pubblico adulte in ogni caso ci viene presentato come una dinamica che è data sia dalla rabbia che dall'alcol quindi non è che è proprio un win win è una vincita a metà però allo stesso tempo almeno proviamo a vedere questa cosa con occhi positivi vedete come sono propositiva oggi riguardo i personaggi che non siano onesta ok devo dire che io non salvo nessuno ok non mi sento di salvare nessuno sono personaggi eseguiti malissimo quello con cui forse un po' meno posso prendermela è Cassian perché effettivamente Cassian nonostante sia di nuovo un personaggio estremamente bidimensionale qua raga permettetemi di essere anche un po' volgare però come sempre davvero Cassian è un personaggio che passa da due emozioni uniche non so neanche se una di queste due è un'emozione però va bene cioè passa dal cazzo duro totale alla rabbia spacco tutto totale cioè non ci sono vie di mezzo o sbatacchia o spacca cioè non ci sono nuance in mezzo o almeno ce ne sono molto poche però mi sento davvero di non prendermela troppo con Cassian perché effettivamente è l'unico che dentro questo romanzo un po' prova a fare qualcosa nei confronti di Nessa prova a starle dietro si sente anche in colpa quando si rende conto di essere stato troppo duro di non avere capito le varie situazioni è l'unica persona in tutto il libro e ci farete caso se lo leggete che chiede a Nessa come sta cosa sta passando cosa sta vivendo nella sua testa perché tutti i santi che le stanno attorno lei se la prende Nessa giustamente se la prende con tutti e ha ragione però nessuno le chiede mai cosa sta succedendo come sta cosa sta passando cioè nessuno viene in mente questa cosa a Cassian invece sì quindi diciamo tra il male e il malissimo almeno Cassian si rende una persona umana un personaggio umano in questo aspetto agli altri sembra non fregare assolutamente nulla e vederlo unicamente come un problema che è esattamente no non voglio anticipare la questione della depressione perché mi arrabbio mi arrabbierò solo una volta su questa cosa quindi detto ciò Cassian è sicuramente un personaggio che è apprezzabile da questo punto di vista nel senso che almeno ci prova almeno si sforza almeno fa qualcosa poi passa la maggior parte del tempo ad essere arrappato ma questo non vuol dire nulla comunque allo stesso tempo davvero è l'unico che qualche sforzo lo fa un po' di sostegno onesta glielo dà tanto che infatti è l'unico con cui lei un pochino cerca di parlare si apre a un certo punto perché con gli altri è proprio impossibile che questo succeda e dopo lo vediamo infatti io adesso balzerei direttamente agli aspetti negativi non so neanche se allacciarmi direttamente a questo tema probabilmente sia la cosa più sensata ma prima parliamo di un altro aspetto forse più immediato ecco era stato annunciato che A Court of Silver Flames sarebbe stato non più uno ya new adult ma sarebbe diventato proprio un adult fantasy secondo me è sbagliato anche in classificarlo come adult fantasy perché secondo me questo è un new adult con elementi romance elementi erotici molto spesso ci sono tantissimi elementi mature content infatti questo per me è un romance erotica con elementi fantasy alla fine e quindi il balzo diciamo tra A Court of Frost and Starlight che è l'ultimo installment di tutta questa serie e questo è davvero secondo me notevole nel senso non che dentro la serie precedente la Sarah non avesse messo qualche elemento piccantino che cioè chiariamo vi ho appena detto che è un libro che insomma ci fa vedere una cosa un po' sex positive tramite Nesta cosa nella quale credo poi fino a un certo punto quindi non è il problema degli elementi erotici all'interno del libro figuratevi se io vi dirò mai questa cosa ma il fatto è che diciamo la quantità di elementi erotici diventa esattamente il 50% di tutto il libro quindi è un balzo davvero importante ecco rispetto a quello precedente perché la sensazione chiaramente è quella che Sarah abbia dato le fan e i fan il contentino quello che volevano e secondo me però è stata ancora troppo timida perché se dai il contentino ai fan ma poi continui a rimanere su queste trame estremamente legate a un mondo fantasy che a un certo punto sembrano quasi degli intermezzi anche fastidiosi cioè non capivo se la cosa fastidiosa erano le scene erotiche o la cosa fastidiosa era la parte di trama che andava avanti su ovviamente le cose parallele il mondo di insomma il nuovo regno tutti i vari scontri le varie trame intrighi che c'erano dietro cioè a un certo punto ero indecisa se quello che trovavo più non so strano all'interno del libro fossero le parti erotiche o le parti di trama cioè che è assurdo perché è davvero la sensazione che fossero estremamente accessorie le une o le altre non so c'era della confusione peraltro ripeto a me non dà assolutamente fastidio la questione della sessualità cioè ci mancherebbe altro però era veramente buttata in faccia e l'evoluzione del rapporto è stata molto incentrata su questo aspetto cosa che ho trovato un po' strano soprattutto legato al fatto che Nesta è diciamo in cura non so neanche come chiamarla questa roba che hanno fatto dentro questo è diciamo recovering quindi su alcuni aspetti sicuramente la distraggono sicuramente l'hanno aiutata però ecco chiariamo subito questa cosa cioè il pene non è la cura per la depressione nonostante qua più o meno la soluzione sia quella cioè quintalate di pene e di sbatacchi e questo è come si cura la depressione no ve lo giuro non so io ho seguito diverse terapie diversi terapisti sono vent'anni che sono depressa e nessuno mi ha mai detto prendi quintalate di pene forse hanno seguito dei corsi diversi da quelli della mass però a parte gli scherzi davvero ho trovato molto strane queste dinamiche nonostante in alcuni punti cioè siano legittimissime cioè sono due persone attratte l'una dall'altra che a un certo punto ci hanno voglia di scopare e non c'è nessun problema ovviamente in questa cosa qua è un po' la dinamica della salvezza attraverso la carnalità che è una cosa che può sicuramente funzionare per alcune persone o comunque essere un palliativo per alcune persone è comunque un po' strano da digerire o almeno io l'ho percepito un po' strano ma ripeto sono io che spacco le balle su questi temi ma direi che questo non era il problema principale cioè il salto di genere cioè secondo me si è sentito proprio in maniera molto prepotente e questo può essere dato sia dal fatto che fosse stata fatta una pessima pianificazione della serie inizialmente dall'altro alla fine la massa ha dato alle fan quello che volevano cioè tutto questo ammontare di scene mature scene erotiche quello che volete però lo ha fatto peraltro con una pigrizia assoluta perché le parti sono davvero molto poco coese proprio tutto tutta la storia è costellata di momenti un po' imbarazzanti dove boh siamo un po' come ci avevano già abituati in precedenza c'è una guerra ma questi scopano che va bene ok legittimo legittimo si stempera la pressione si dimentica un pochino però un po' cringe soprattutto perché a livello proprio di stile e ripeto non è che io dalla mass mi aspetto della qualità dal punto di vista stilistico però io ho visto una pigrizia in questo volume che tanto sapeva avrebbe venduto anche ai muri che sarebbe arrivato in cima a qualsiasi classifiche le avrebbe pagato la nuova casa o la pensione al figlio non lo so che non avevo notato nel precedente comunque già sappiamo che la mass non ha un editor da parte del problema ma in questo caso c'era proprio anche poca fluidità poco senso tra le varie parti c'era molta poca coesione anche le varie scene le varie dinamiche anche della trama se tralasciando tutta la parte diciamo erotica e come si mescola nella parte diciamo più di trama proprio la parte di trama è un problema è talmente basica talmente casuale affidata al caso non è rivista non ci sono cioè ci sono cose che accadono veramente perché per botta di culo sono lì o per botta di culo qualcuno porta una cosa proprio nel punto dove ti serve o ti trova cioè insomma c'è tanta tanta pigrizia secondo me che già ci aveva sempre dimostrato perché non è che dico che non fosse così cioè uno dei problemi della massa è proprio il fatto che col fatto che vende vende così tanto non fa nemmeno un massiccio lavoro di editing non ne ha bisogno perché sa che tanto questo libro venderà e secondo me qui era talmente palese che insomma ci sono cose che secondo me avrebbero potuto funzionare meglio qui c'è la Tiffany del futuro dell'editing che aggiunge cose non sarà l'unica cosa che aggiungeremo una cosa che mi sono dimenticata di dire riguardo alla scrittura è proprio perché sono così casuali queste aggiunte di trama un pochino anche non diciamo omogenee all'interno di tutto ciò che è la narrazione cosa deve fare Sarona Nazionale deve ricorrere a una valanga di spiegoni il libro è costellato di mega spiegoni spiegoni dove deve spiegarti a cosa serve un oggetto a cosa serve un luogo chi ci sta qui perché non c'era cioè totalmente puff cioè insomma letto un po' tutta questa impostazione qua e sappiamo cosa ci troviamo di fronte cioè siamo sinceri non è che mi aspetto una cosa estremamente compatta e fluida però davvero forse in questo caso le due parti sembrano due parti separate e io mi chiedo perché allora non eliminare del tutto la parte fantasy e buttarsi sulla parte romance la parte erotica e dare validità a questa cosa cioè senza nemmeno vergognarsi di questa cosa piace molto il modo in cui lei imposta queste relazioni queste dinamiche eccetera super virili super muscolari super insomma non so come dire patriarcali patriarcali ma comunque quindi visto che piace moltissimo questa cosa perché continuare a non lo so battere il ferro su una roba che alla fine diventa estremamente secondaria e influente nella storia tanto non è quello il punto principale ci sta cioè nel senso io di fantasy erotica fantasy con contenuti maturi fantasy con the romance ne ho letti una miriade cioè nel senso chiunque abbia letto la hamilton sa di cosa parlo almeno le due parti diciamo erano molto oneste molto più fluide ecco e secondo me non c'è nemmeno quello sforzo lì in questo momento detto questo io passerei anche all'altro tema cioè il fatto che dentro il libro un po' tutti i personaggi e poi soprattutto chiaramente Nesta e Cassian che sono un po' i protagonisti di questa storia vivono queste due emozioni totalmente polarizzanti cioè c'è un arrappamento totale o l'incazzo totale e cioè su Cassian è molto evidente ed è estremamente accentuato ma anche gli altri non è che vivano emozioni abbastanza diverse prendete un Rhysand che è forse il peggior personaggio di questo libro dopo Amren e dopo arriviamo all'Ener Circle però davvero entrambi vivono solo rabbia totale o momenti di distruzione totale e poi dall'altro momenti magari un po' anche cringe dove c'è solo la sessualità in mezzo ecco cioè è questo dualismo che io ho trovato estremamente esasperato un po' in tutti i suoi personaggi e le personagge diciamo che si era sforzata un po' di più di dare un po' più di layers in precedenza un po' più di livellamento un po' più di emozione no qua ha gettato la spugna tanto vendeva cioè è talmente evidente questa cosa che boh ok ci sta va bene non so quanto durerà tra l'altro perché stiamo continuando ad aggiungere temi e io devo ancora arrivare a quello grosso comunque passiamo alla questione rappresentazione femminista dentro questo libro cioè come vengono anche solo introdotte le donne dentro questo volume cioè c'è un problema abbastanza importante di quello che si definisce girl boss feminism o comunque praticamente il femminismo delle strong female characters ovvero le dinamiche tra le ragazze presenti in questo volume rappresentano molto bene proprio quello che si definisce girl boss feminism ovvero quello dove sono tutte tostissime sono tutte super fighe sono tutte estremamente curate sono tutte di successo qualsiasi cosa fanno yeah ce la fanno subito e alla fine poco si confrontano in realtà con delle tematiche più serie anche quando in realtà dentro questo volume si affronta si affrontava già nei precedenti la questione di survivors per dire anche tutta proprio la questione di Gwyn e del insomma delle suore chiamiamole suore non spero come altro definirle è abbastanza problematico di per sé perché nessuno si è accorto che abbiamo recluso delle survivor in un posto dove sicuramente si sentono al sicuro sicuramente hanno costruito una loro micro società con tutta una serie di regole e dinamiche ma le abbiamo chiuse lì e dopo diverso tempo nessuno si è occupato di cercare di trovare dei percorsi di fuoriuscita dalla sensazione non più di essere vittima ma di essere survivor e questa è una cosa che a me preme molto perché è stata vista come una cosa molto positiva in realtà da un certo punto di vista ci sono dinamiche estremamente positive nella loro micro comunità che vengono giusto appena accennato il fatto di come ci si rapporta tra le varie ragazze eccetera eccetera però ripeto sono persone recluse in fondo e distanziate dalla società con cui non possono più avere assolutamente dei contatti che sicuramente in un'ottica di survivor che sono sopravvissuta quello che hanno vissuto che è un trauma veramente estremamente pesante di guerra eccetera eccetera però allo stesso tempo secondo me è un messaggio fino a un certo punto positivo peraltro la fuoriuscita diciamo da questa sorta di reclusione autoreclusione non saprei neanche come definirla avviene tramite una dinamica militare che sicuramente come viene impostata è un modo per cercare di riprendere sicurezza del proprio corpo riprendere sicurezza della propria vita e anche insomma avere la sensazione di potersi difendere poter avere una possibilità in casa di pericolo e diventare anzi degli strumenti estremamente efficaci nelle dinamiche chiaramente di combattimento in questo caso infatti vengono fondate le valchiri o riprese le valchiri e questi ci abbiamo messo un po' tutto dentro a livello di diciamo folklore cioè c'è un po' tante robe a caso poi mi raccomando non storpiate le mie parole non sto dicendo che avere una comunità allontanata dopo un trauma così grande come quello che hanno subito sia negativo e sbagliato anzi è parte del percorso di fuoriuscita dalla violenza e di ripresa dalla violenza ma manca il percorso ecco successivo e questo a me è un po' stonato cioè è una cosa che ho trovato un po' fiatta quindi mi raccomando prendete le mie parole con le pinze l'altra questione è che chiaramente si viene a creare un movimento di strong female characters cioè anche tutte queste soggette che diventano guerriere per quanto sia bello da pensare che poi sembrano più amazzoni in realtà che valchirie da come viene impostato è sicuramente apparentemente positivo però si viene a creare un corpo militare che comunque per me rimane problematico quando si parla di femminismo in questo caso ma questo è una cosa veramente molto personale lo sottolineo quindi è più un problema mio che in generale detto ciò comunque anche i personaggi che ci vengono introdotti come possono essere Emery come può essere Gwyn sono intanto Gwyn si vede lontano un chilometro che è stata messa lì anche per piacere a Mor quindi si vedrà questa cosa nei prossimi volumi sicuro e poi Gwyn è una survivor un po' ambigua che però è molto funzionale a Nesta è molto funzionale a quello che fa cioè a poca valenza come personaggio a se stanze in maniera sbagliata perché poteva essere davvero un po' interessante però è davvero molto funzionale anche il tipo di approccio che ha certe cose non lo so sono un po' stranita ed Emery Emery è forse la più strana che ha delle cose sensate altre cose non lo sono nessuno che fa niente anche un po' tutto l'approccio che ha in generale la Night Court con le questioni di genere sono cose che Rissand fa ma o comunque impone insieme a Cassian e Asriel poi però non c'è nessuna diciamo dinamica efficace per cercare di cambiare la cultura non c'è nessuno non vedi o non riesci a percepire che facciano qualcosa seriamente per cercare di modificare la cultura dominante cioè è sempre una cosa detta è sempre un auspicio è sempre una cosa che sperano accada ma poi effettivamente quando vai a fare i conti con questa cosa sembra più a parole che altro un po' come nel PD no? cioè la stessa identica cosa insomma la questione femminista secondo me è davvero problematico almeno il tipo di femminismo che propone che secondo me è un femminismo di facciata è molto liberal è molto aderente alle strutture di potere già esistenti e sicuramente è un girlboss barra strong female character femminism perché alla fine tutte le donne di questo mondo a parte Elen ma Elen cioè non ha una personalità quindi non può essere degna di essere qualcosa dentro questo libro però davvero Farah è super bedass Moor super bedass Amren è una testa di è una bedass Nesta super spacca tutto Gwyn spacca tutto a un certo punto Emery spacca tutto cioè qualcuno che fa altro per favore cioè non possono essere tutte bellissime tutte super strong tutte un po' di sfumatura in più cioè un po' quanto meno che è quello che in realtà dovrebbe rappresentare il femminismo cioè non solo super bedass ma persone che hanno caratteri capacità e talenti molto diversi cioè il talento non è solamente spaccare con la spada cioè i talenti sono moltettici e secondo me è questa cosa proprio a un certo punto si appiattisce talmente tanto che tutto diventa uguale ecco e a proposito di tutto diventa uguale una cosa che secondo me è estremamente evidente dentro queste relazioni al di là delle dinamiche di potere che sono assolutamente problematiche Riesand ripeto è il peggior personaggio dentro questo libro noi parliamo nel dettaglio del Diner Circle ma è proprio come dentro le relazioni invece che trovare diciamo modo per non so come dire essere accompagnate da un lato vivere una vita intima felice eccetera eccetera dall'altro anche poter avere spazio per se stessi per la propria indipendenza e la propria insomma scelta decisionale di qualsiasi tipo qualsiasi esse siano cioè in questo caso proprio c'è invece l'annullamento dentro le varie coppie si vede proprio in maniera palese tra Ries and the Fair secondo me dove c'è alla fine c'è proprio un grande annullamento e poi guarda caso tutti mate porca merda questa è proprio la roba che mi ha fatto arrabbiare di più voi lo sapete che quando io sento la parola mate vorrei bruciare se fossi fuoco proprio vorrei bruciare perché basta cioè non è una cosa bella l'essere mate cioè non è un concetto positivo l'imprinting faceva schifo prima fa schifo anche ora comunque in pratica non c'era bastato Elen non c'era bastata Farah adesso ci abbiamo messo pure Nesta questo è lo spoiler finale ed è una roba che a me ha dato un fascino sarebbe stato così figo poi tra l'altro se per una volta loro due non fossero diventati mate ma proprio due persone che si sono scelte due persone che stanno insieme perché vogliono stare insieme non perché glielo dice la loro natura di corpi che evidentemente vengono connessi da un altro livello così sarebbe stato fighissimo giusto e anche secondo me molto lineare con la loro storia cioè sono due persone che si sono mandate a fanculo numerose volte a un certo punto hanno cercato di fare dei passi per avvicinarsi hanno capito che a un certo punto hanno bisogno l'uno dell'altra che questo è un po' interdipendenza e non ci voglio nemmeno entrare ma sarebbe stato così figo sapere che puoi stare con una persona non per forza perché è il tuo mate ma perché lo scegli poi quando deciderai di non sceglierlo più passerai oltre se ti sei rotta le balle o se lui si è rotto le balle e non succede nulla di male invece no proprio questa cosa non ce la facciamo è vista così bene così romantica piace così tanto io ve lo giuro impazzisco quando ho letto mate quando ho visto le lucine basta 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 niente però cioè prevedibile comunque almeno ammetto che ero preparata però ho detto come andrà mai a finire prevedibilità 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 e vabbè piace io sono una minoranza quindi non ci posso fare nulla io odio la questione del mate lo sapete ah mi ero scordata prima che proprio a proposito di scrittura cioè adesso uno dei motivi per cui ho trovato grande pegrizia e non che in passato non lo facesse la Sara ve lo chiamo la Sara come se fosse tipo la mia vicina di casa vabbè comunque una delle cose che fa la Sara di continuo è scrivere le solite 3-4 frasi ma a questo punto io le avevo sottolineate nei miei appunti e c'erano proprio frasi che si ripetevano almeno 50 volte di cui una io non vorrei nominarla in questo video perché mi sembra offensivo però la dea di noi tutti la regina di noi tutti a un certo punto like calls to like I'm sorry I'm sorry ma appartiene a qualcuno e viene ripetuto tipo 50 volte dentro questo libro ci sono frasi il modo in cui tipo si approcciano durante i rapporti a sempre ok qua ci abbiamo messo tre ore perché nemmeno la fotocamera voleva collaborare e riprendere continuava a darmi errore ma è successo ma è successo in ogni caso allora di cosa stavo parlando della ripetizione delle solite 3-4 frasi e vi ripeto quello che stavo dicendo un po' prima ovvero che in pratica proprio ci sono punti soprattutto scene molto similari che utilizzano proprio le stesse frasi le stesse parole lo stesso ordine e la ripetizione è veramente intensa o almeno io l'ho notata in una maniera abbastanza talese ecco cioè quindi anche in questo anche un pochino di sforzi in più poi sicuramente sono dei richiami che ogni autrice ha può avere eccetera e non c'è nulla di male ma io sono abbastanza inclina a non pensare che sia dovuto alla questione diciamo del voler dare il proprio stile cioè alcune cose sono prevedibili alcune battute poi mi hanno anche fatto abbastanza ridere perché sono prevedibili non solo come battute ma sono proprio prevedibili nella mass e quindi cioè diciamo un pelo di cura in più ma ripeto ci sarebbe voluto un editing che evidentemente non è stato fatto e va bene arriviamo alla questione inner circle e qua diciamo che mi prenderò un'altra ora e mezza probabilmente del video probabilmente se inizialmente l'inner circle ci veniva posto come il luogo dove entravi in questa famiglia meravigliosa e diventavi una persona meravigliosa alla quale aspirare secondo me ormai è palese che entrare nell'inner circle faccia male perché più tu ci entri più diventi una persona di merda e mi spiego cioè in questo caso ci sono anche due dinamiche che tra l'altro snoccioliamole subito un po' come fa aveva fatto con Mor in Akowar e poi anche nel libro successivo in parte cioè Lamas deve trovare una vittima sacrificale in ogni suo libro prima era stata Mor che era diventata una persona orribile ma anche nel libro precedente era stata trattata malissimo in questo caso lo scettro è stato passato ad Amran che non solo diventa una personaggia che non ha più senso di esistere così com'è ma è estremamente anche fuori dal suo personaggio per la maggior parte del tempo o almeno per quel poco che ci era stata presentata anche perché le uniche scene dove è presente sono scene legate o al trattare male Nesta o a quello di fare ammiccamenti sessuali col suo fidanzatino io continuo a sostenere che per me Amran sarebbe stata poi la perfetta personaggia sessuale senza dover per forza sottolinearlo era già perfetta così ma noi dobbiamo far accoppiare tutti perché se no si perde il senso di questa serie ma al di là del relazione non relazione che è un problema relativo cioè ok è proprio il fatto che Amran qua si comporta completamente in una maniera a parte orribile nei confronti di Nesta perché davanti è palese che tu è una persona che non sta bene e la tua unica reazione è respingerla trattarla di merda dirle che insomma il mondo sarebbe un posto migliore senza di lei che insomma è tutta una serie di epiteti che io ho sottolineato e sono così frequenti in tutte le scene di Amran che perché cioè nel senso non bastava già che facessero schifo tutti gli altri anche Amran deve fare così schifo e evidentemente sì ed è la vittima sacrificale di questo libro non che Mor sia meglio perché Mor anche lei è molto dura con Nesta e come faccio a tenere tutto fuori la parte diciamo vabbè comunque quando davanti è una persona malata soprattutto che sta vivendo sicuramente è un periodo di depressione di sindrome post-traumatica poi c'è altra roba che però non mi sento così brava nel decodificare non ho una laurea in psicologia sono solo una paziente comunque in pratica Mor è troppo dura con Nesta in molti momenti sicuramente le persone depresse hanno bisogno di vari stimoli da quelli un po' più duri da quelli un po' più comprensivi eccetera ma sicuramente la cosa della quale non hanno bisogno è essere trattate ulteriormente di merda le persone depresse si sentono già di merda è già molto se sopravvivono e non tentano il suicidio faccio questo discorso con questi toni perché è una cosa che conosco molto bene e quindi insomma mi ha fatto molto rabbia soprattutto perché mentre è comprensibile o sarebbe stato comprensibile in altre situazioni in altri libri con altri soggetti argomenti di discussione proprio perché l'inner circle è sempre stato venduto ai lettori alle lettrici come questa oasi felice di persone super meravigliose splendide che ne hanno passate tante proprio perché ne hanno passate tante è ancora più assurdo questo tipo di trattamento che chiariamo trattare male le persone depresse è spesso una norma non sapere cosa fare con le persone depresse è cioè quello che vi capiterà perché molto spesso non troverete e non c'è dell'empatia da parte delle persone non capiranno ed è il motivo per cui le persone non si curano e dopo su questa parte ci arriviamo ma soprattutto perché l'inner circle mi sembra assurdo soprattutto perché sono persone che hanno subito dei traumi profondi hanno vissuto cose molto dure è realistico e soprattutto è talmente palese che Nesta sia ormai un soggetto che si vuole buttare via che si sta buttando via e che non ha alcun interesse nel sopravvivere che lo trovo veramente di pessimo tatto tanto che oltre ad Amren e Mor che non mi sembrano comportarsi da amiche soprattutto Amren perché con Amren Nesta aveva instaurato un rapporto per quanto strano un rapporto litigano alla prima litigata Amren chiude i ponti cosa che sarà capitata a qualsiasi persona depressa ok è comunque fastidiosa è veramente irritante vederlo da parte di persone del genere che sicuramente se non sono state depresse sono state traumatizzate se non sono state traumatizzate hanno sofferto di altre cose e quindi dovrebbero essere un pelo più comprensive soprattutto perché continuano a esserci presentati come sti grandi santi bravissimi bellissimi levissimi e vabbè fastidio per non parlare di Rhysand e Farrah perché vabbè Rhysand ha vinto lo scettro del peggior personaggio di questo libro e veramente cioè mi sono segnata questa parte qua perché c'è un certo punto tipo Rhysand tratta di merda nesta continuamente per tutto il libro e ci viene detto che lo fa perché deve proteggere Farrah bla 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 ma ripeto davanti hai una persona che non è che nasconde la sua depressione non si fa vedere e non dà fastidio in un angolino cioè una persona che sta lanciando una serie di gridi abbastanza paleno cioè deve girare con un cartello qua davanti con scritto sto di merda non lo so quale cioè cosa doveva fare ok i gridi di aiuto di nesta sono palesi cioè non è ripeto non è una di quelle persone che sta vivendo una fase di depressione talmente di down dal punto di vista fisico psicologico che praticamente si invisibilizza e scompare e dorme o non lo so è palese va in giro spreca tutti i loro soldi si spacca a metà scopa qualsiasi cosa respiri e lo fa in maniera talmente plateale che è chiaro che è un segnale e una richiesta d'aiuto e praticamente funziona così Rissand si incazza e tratta di merda e nesta tutto il tempo Farrah cerca di limitarlo un pelino ma hey anche qua entra in gioco il jolly pene che a quanto pare viene distribuito a tutti i player di questo volume e appena si nomina il pene Farrah automaticamente smette di pensare alla sorella e si rivolge a Rissand risolve tutto con mi farò perdonare e ovviamente chi rimane fuori da quest'equazione nesta è palese che ok Rissand la tratta di merda perché hey deve proteggere Farrah la sua mate bla 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 il bambino bla 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 e alla fine chi tratta di merda anche lui nesta quindi tutti trattano di merda nesta Farrah secondo me è inqualificabile perché e adesso ve lo spiego una cosa che secondo me è molto palese in questo libro non sarà così palese per tutti perché forse non l'avete vissuto in prima persona però l'impressione che io ho avuto un po' per tutto il libro è che la cosa che io ho notato un po' in tutto il libro è che per quanto nesta sia la protagonista e lo rimanga dall'inizio alla fine il problema è che dei suoi sentimenti ci interessa fino a un certo punto perché al centro viene posto come gli altri si sentono nei confronti della sua malattia è una cosa che si percepisce in alcuni punti molto più che in altri no? però Farrah soffre quindi noi siamo dispiaciuti per il fatto che Farrah soffra perché la sorella la tratta male inizialmente dopodiché diventa brutale decide per la sorella senza cercare in alcun modo o comunque con maniera molto anche mettendo di mezzo anche la questione economica che boh siete talmente che cazzo vi frega di sprecare tutti i loro soldi e allo stesso tempo perché il problema è che nesta tratta di Martha Farrah non è tanto il fatto che nesta sia male il motivo per cui si decide di cambiare le cose ma che Farrah ci soffre e questo da parte di una persona ve lo giuro che ha passato diverse fasi della depressione e che ha vissuto più o meno tutto l'arco di ciò che si può fare si può pensare si può decidere è di nuovo uno dei motivi per cui non ci si cura perché perché se al centro non c'è quello che stai vivendo tu ma c'è come gli altri si rapportano con quello che stai vivendo tu è un problema ed è un problema che è presente in tutto il libro perché alla fine la morale della favola è che nesta fa il suo percorso ed è un percorso che io non mi sento di attaccare del tutto anzi cioè comunque in alcune cose mi sono rivista cioè mi sono rivista in realtà nella me molto giovane magari ed è questo anche un po' una distonia di Tony un libro per adulti ma che ragiona su maniere o su dinamiche di salute mentale anche però molto young o più young ecco che è un po' una distonia che io ho sentito e allo stesso tempo però cosa viene messo al centro non è mai il percorso di nesta nei confronti degli altri cioè nesta ha il suo percorso valido nel quale si riconosceranno sicuramente tante persone o per una dinamica o per un'altra per ciò che simboleggia e tutto e io questo lo trovo validissimo ok ci tengo però allo stesso tempo cosa ci interessa alla fine della fiera che nessuno trovi fastidio quando c'è nesta che nessuno si senta attaccato che tutti si sentano tranquilli e che ci sia la pace nel mondo della night court è una cosa che a me ha infastidito moltissimo ma proprio tanto 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 come vi dicevo proprio l'inner circle che è questo gruppo di santi che stanno insieme si vogliono bene sono perfetti bellissimi levissimi a parte Cassian davvero io non ho visto lo sforzo di nessuno nel cercare di darle una mano perché dare una mano a una persona che sta così male non è sicuramente urlare contro non è sicuramente obbligare a fare cose non è scriverla in palestra passa da una serie di azioni e soprattutto passa attraverso una grande empatia e grande voglia di passarci capisco che quando si tratta di salute mentale le dinamiche non sono né così chiare né così semplici è chiaro però per una sorta di sindrome post-traumatica da relazione abusiva l'ha vissuta un attimo di empatia in più poteva averla invece no alla fine è poverina e lei la vittima perché lei è la donna incinta lei è quella che poverina subisce tutta l'ira di Nesta e alla fine di Nesta non ci interessa perché alla fine il succo che Nesta sta male e dà fastidio questa è una roba che proprio e ci arriviamo ancora più nel dettaglio fra un po' altra cosa che mi sono scordata prima quando parlavo di girl boss feminism non so se avete notato o se lo leggerete comunque c'è questo sottotesto no ci sono vittime di violenza sessuale ci sono diverse questioni che sono legate proprio alla sessualità ma c'è in diverse punti del libro sia nella scalata cioè diciamo nella prova che devono superare le tre ragazze sia anche un po' tutti in altri contesti una sorta di non so come definirlo senza farmi bloccare dal google di rape underton cioè di sottotono della violenza sessuale un po' ovunque cioè la minaccia costante questa roba super triggering secondo me dove alla fine una serie di situazioni ti portano a dire che potrebbe continuare a succedere che è un'arma e che è qualcosa che ti potrebbe continuare a capitare secondo me questo è anche stato un po' di cattivo gusto sinceramente comunque è una minaccia che io trovo sempre molto pigra e sempre da evitare quando si tratta di queste cose perché già hai delle survival già è un tema che puoi trattare legato alla guerra bene non continuare cioè non metterlo un po' ovunque invece è un po' sprezzemolato in tante scene e questa cosa a me mi triggera tantissimo perché è una cosa che dico sempre ma non vale per la mass vale per qualsiasi autore autrice che scrive fantasy la dinamica della violenza sessuale se si può evitare evitiamola anche perché quando l'ha messa cioè parlando di questo gruppo di bibliotecarie sotterranee c'è già lì cioè non c'è bisogno poi di dare sempre un alone di costante minaccia no? magari ovviamente raccontando Gwyn è normale pensare che nei suoi rapporti con l'esterno questo sia una sua preoccupazione è chiaro è ovvio ma non su tutte le altre cioè che è sempre ce lo trovo sempre un po' di pessimo gusto e comunque si può evitare ecco aspetta tra i miei 500.000 punti ok altra cosa che secondo me è un problema abbastanza grave della massa è che lei ha un problema con le persone introverse e questo è evidente e non che sappia gestire quelle estroverse o comunque quelle molto esuberanti molto eh però diciamo che sicuramente con le persone introverse c'è un tipo di problema perché le converte tutte cioè a un certo punto diventano anche loro delle strong female characters bam eh vabbè ma passiamo alla gatta da pelare cioè questa recensione è già stata marchiata con una serie di intoppi cioè non sa da fare probabilmente perché è stato male il gatto prima sono dovuta uscire e mi sono tenuta per ultima cosa la gattona da pelare che non è Pipi la mia compagna di vita ma è la questione della salute mentale che su internet è stata praised è stata boh si è gridato al capolavoro ok no anzi un po' vi ho anticipato già qual è secondo me il problema fondamentale di questo libro ovvero la centralità non del punto di vista di o comunque delle sensazioni finali di chi è affetto dall'assoluto mentale ma tutto ciò che gli sta attorno e questa è una cosa che a me ha davvero tanto infastidito allora poi sicuramente cioè ci sono delle cose io sono molto dura su questo tema perché mi riguarda intanto in prima persona e quindi chiaramente c'è un coinvolgimento anche emotivo seconda cosa secondo me ci sono dei messaggi che sono problematici all'interno di questo volume anche se alcuni aspetti sono stati gestiti bene di quelli ve ne parlo subito e l'altro problema è un po' il fatto che ci sia contenti di questo tipo di rappresentazione cosa che chiaramente a me non riguarda e in generale proprio accontentarsi di queste cose secondo me è parte del problema ma andiamo per gradi ok perché è un discorso complesso riguarda tantissimi aspetti e visto che sempre parlato di come so io sempre parlato di come trattare la salute mentale ed è un tema che ripeto non solo mi riguarda in prima persona ma che cerco sempre di attenzionare lungo il corso del mio lavoro online evitiamo di banalizzarlo con due righe bene o male perché secondo me non c'è un bene o male universale è impossibile c'è in questo libro secondo me una rappresentazione che in alcune cose è molto bene ok in alcune cose è un'eterna lotta tra il male e il malissimo se non per dire peggio di quanto uno può immaginare quindi ho bevuto perché insomma questo è un discorso complicato andiamo per gradi quando si affronta la storia di Nesta bisogna tenere conto che non è solo depressa ma oltre alla depressione che è evidente che è uno dei risultati secondo me dell'altra con causa ovvero della sindrome post traumatica sindrome post traumatica e depressione hanno in realtà degli outlet abbastanza diversi dal punto di vista esterno anche se possono avere delle cose in comune ecco secondo me il modo in cui la mass ha parlato della sindrome post traumatica in parte lo ha fatto abbastanza bene dall'altro uno dei problemi invece è di come ha parlato di depressione o come ha trattato una persona depressa come già vi anticipavo prima infatti trattare una persona depressa senza capire senza empatizzare con i suoi sentimenti è parte del problema soprattutto se al centro finiscono i sentimenti di tutti tranne che della persona depressa cioè da un lato non so come non entrare in cose personali quindi banalmente in vent'anni io ho passato penso tutte le fasi della depressione da quella brutta brutta da quella di down da quella di rabbia da quella di rifiuto del mondo da quella di autodistruzione da quella di stinti suicidi da quella di pianificazione di suicidi da quella di tentativi di suicidi da quella le cose sono triggering raga quando si parla di queste cose perché la malattia mentale e la salute mentale fanno cagare cioè se no le persone ne parlerebbero con grande tranquillità ma ahimè non è così quindi diciamo che bisogna tenere conto di un contesto dove stiamo parlando di una persona che passa delle fasi anche un po' antitetiche all'immagine che noi abbiamo o l'immagine che hanno le persone di che cosa sia la depressione no cioè e questo ha secondo me ha contribuito in parte a rendere Nesta super antipatica e il motivo per cui sinceramente Nesta è qua dentro per sempre è che una delle cose che a me più ha dato fastidio è il fatto che nessuno si sia posto all'interno di questo libro il problema di cercare di essere di supporto di non mettere al centro solo le proprie emozioni o i propri sentimenti hanno cercato in qualche modo di colpevolizzarla praticamente continuamente per ogni cosa eccetera eccetera voi dovete capire che è ovvio i comportamenti di Nesta non vanno scusati vanno compresi che è molto diverso e in qualche modo Nesta è talmente non so come dire non ha più nulla da perdere all'interno di questo libro perché non gliene frega più nulla che non deve nemmeno accettare le conseguenze delle sue azioni ok ed è difficile da capire se queste cose non si sono vissute in prima persona o non si hanno avute vicino persone che hanno vissuto queste cose quindi si tende ad essere estremamente duri con questo tipo di reazioni perché finché la depressione significa non alzarsi dal giudano quando è in quella fase lì per quanto dura è accettabile quando invece diciamo si manifesta nella maniera più volenta che a volte può capitare che sicuramente è anche legata ai traumi che ha subito automaticamente Nesta diventa il nemico Nesta diventa la persona da odiare e badate bene Nesta è sempre stata una persona sgradevole dall'inizio alla fine del motivo per cui io l'ho sempre amata perché è l'unica che almeno non ha cercato di essere non so come dire cioè almeno è l'unica che non cercava la perfezione anzi non gliene fregava proprio niente io comunque queste cose le stimo le stimero sempre quindi secondo me da questo punto di vista cioè il fatto che Sarah J. Maas non abbia cercato di indorare la pillola è stato positivo come in parte è stato positivo il suo percorso di ripresa di se stessa il fatto di aver creato un ambiente come la casa che sicuramente è il personaggio migliore di questo libro molto più che qualsiasi personaggio dell'inner circle cioè ha più personalità la casa che Asriel in questo libro e quindi davvero secondo me quella parte soprattutto di lavoro personale che fa nesta per quanto diciamo chiaramente un po' banalotto su alcune cose il fatto che ogni storia ha necessità di essere raccontata eccetera è una cosa che ripeto nulla toglie che non ci sia bisogno di raccontarlo questa parte qui anzi a me alla sedicenne me diciasettenne me sarebbe stato super utile ok ma posto che ormai la consapevolezza che ogni storia ha necessità di essere raccontata è il giudizio che diamo sulle storie o è il modo in cui noi raccontiamo queste storie parte del problema secondo me nesta da un certo punto di vista nesce molto bene perché comunque in qualche modo parte della sua storia è assolutamente fonte di medesimazione il suo percorso dove tra lo sfuggire totalmente a quello che si è fatto e sentirsi invece tutto il senso di colpa del mondo che è il problema il non riuscire a essere focalizzate sul quadro generale ma vedere solo gli aspetti negativi e scusa e mi scuserete se ogni tanto mi trema la voce ma è come se stessi parlando di me quindi è abbastanza duro diciamo che queste parti io non mi sento assolutamente di negarle o negare il fatto che Sara comunque abbia fatto quello che doveva fare ecco secondo me nesta nel suo percorso per quanto abbia degli intoppi abbastanza problematici anche solo la questione militare dove lei si deve rimettere in piedi in un modo militare che lo trova abbastanza atroce è complicato e non è efficace ovviamente per tutti il tipo di approccio che si ha in questo libro trovo però che sicuramente le cose che affronta Nesta al fatto di sentirsi inadeguata al fatto di sentirsi sempre la causa di tutti i mali fondamentalmente che un po' è stato e il fatto di essere stata un po' esclusa dalla sua famiglia sicuramente in qualche modo emergono bene ok diciamo che io non ho molto ben capito la questione della madre perché viene buttata lì viene ripresa ma non viene effettivamente portata avanti fino in fondo come mai c'è questa divisione questo attrito che in realtà è il punto focale per cui Nesta diventa Nesta ok e una figura del genere il rifiuto paterno invece sono un punto centrale anche per lo sviluppo di una depressione latente e che non è solo dato ovviamente dal trauma subito e ok è evidente che ci fossero segnali già in precedenza comunque senza di esclusione in senso di vabbè una serie di cose che lei ovviamente ha vissuto e che sono emerse a sprazzi eccetera ma sono molto poco omogene e poco chiari e non che io mi aspetti una perfetta rappresentazione da Sarah J. Maas non credo ok ma il problema è il contesto nel quale inserisce la malattia Sarah J. Maas quando si affronta un percorso di riabilitazione qualsiasi esso sia ci sono tantissimi approcci anche a queste cose e non ce n'è uno efficace per tutti e tutte non ce n'è uno che va bene per tutte anzi è un percorso che sempre va costruito attorno ai traumi di una persona alle debolezze di una persona ai motivi per cui si soffre ok sicuramente nessuno psicologo e nessuno psichiatra vi avrà mai detto di curarvi con il pene cosa che più o meno invece è il messaggio di sottofondo di questa storia non voglio cioè la butto un po' in cacciare ogni tanto perché mi serve anche a sdrammatizzare il fatto che comunque c'è un po' il nodo alla gola quando parlo di questa cosa perché non è una cosa neutra cioè non lo può essere sicuramente ripeto il modo in cui Nesta affronta certe cose la morale di una parte della storia di Nesta sicuramente sono fonti di medesimazione sono sicuramente cose nel quale anche solo in parte ci si può ritrovare per chiunque abbia affrontato cose simili ok anche se ovviamente senza una guerra senza distruggere Ibern eccetera eccetera non serve tutta la parte fantasy per parlare dei traumi però secondo me ciò che è profondamente sbagliato è la morale che si ha attorno alla depressione attorno al trauma come vi dicevo anche prima appunto all'inner circle di come sta Nesta non gliene frega assolutamente nulla a nessuno tranne a Cassian anche se secondo me Cassian è interessato alla cosa fondamentalmente per attrazione o appunto visto che lo diventa perché è già abbastanza NASA che c'è del mate in giro cioè un mating bond che fluttua nell'aria quindi anche quello un pochino a me ha fatto scendere la questione perché quanto sarebbe stato bello di nuovo come vi dicevo sono due persone che si scelgono e anche il fatto che Cassian l'aiuti non è dato da un ipotetico bond che si può andare a creare e questo vabbè è veramente l'ultimo dei problemi a parte davvero Cassian e a parte le due figure introdotte nuovamente perché giustamente fanno le veci di chi aiuta Nesta a fare terapia ok cioè Gwyn ed Emery il problema dell'inner circle è che Nesta ha una pessima influenza sulla loro immagine Nesta è sgradevole e che Nesta rischia di dilapidare il loro denaro e per questo viene trattata di merda quando cioè non so come dire è proprio palese già dal libro scorso che fosse in una spirale di autodistruzione totale io non cerco ovviamente la totale immedesimazione innesta trovo un po' strano è tutto un po' strano ma per me magari ok su alcune dinamiche il fatto che nessuno attorno si ponga delle domande il fatto che provino ad aiutarla ma fondamentalmente la tengan esclusa passino a metodi militari e che nessuno da lì in avanti si ponga al dubbio di chiederle come stai cioè non succede mai nel corso del libro né Fera né Mor né Rissand a nessune Asriel c'è forse un pelo Asriel una volta per sbaglio ma nessuno che si pone il problema di come sta Nesta cioè sta migliorando e questo è quello che ci interessa domande dirette non ci sono e perché è problematico perché alla fine della fiera la cosa che a me personalmente ha fatto proprio più rabbia è che Nesta deve chiedere scusa chiede scusa magari per un episodio specifico in quel caso cioè l'aver rivelato il segreto che tutti tenevano a ferra ok ma portare una persona che sta evidentemente male che già si sente una merda che già si sente in colpa l'unica cosa che sente è di essere sbagliata e di meritarsi tutto il male del mondo e l'unica cosa che tu pretendi da questa persona durante la guarigione è una scusa cioè è il chiedere scusa è il motivo per cui le persone non si curano ok cioè parte del processo sicuramente di guarigione porta anche a confrontarsi con gli errori che si sono fatti ma io ho visto molto poco interesse nella condizione di Nesta e ho visto tanto interesse nello chiedere scusa a me questa cosa fa molto rabbia fa molto rabbia perché è proprio un messaggio che è chiaro no cioè state male potete stare male e fate il vostro percorso fate quello che è meglio per voi ma non perché tutti hanno interesse che voi siate meglio perché hanno a cuore quello che provate pensate eccetera ma perché non dovete essere di intralcio alle altre persone dovete essere persone funzionali persone che hanno una validità sociale un riconoscimento sociale e che soprattutto non creano fastidi soprattutto all'inner circle e questo è una cosa che a me ha profondamente ferita anche ok perché è quello che accade sempre ok ed è il motivo ripeto per cui le persone non si curano le persone non vanno dallo psicologo le persone non cercano aiuto secondo me era palese quanto Nesta avesse mandato probabilmente tutti i messaggi di aiuto e le richieste di aiuto che poteva mandare le persone non le hanno volute cogliere c'è anche un Elen che sparisce non si fa più vedere perché poverino il suo trauma e tutti l'abbiamo ferita tu Nesta l'hai ferita come se il tema fosse solo il trauma di Elen ok che è sicuramente traumatizzata ma quanto sono state riservate parole di conforto di sostegno di supporto a Elen e quante ne sono state riservate a Nesta perché perché la rabbia di Nesta è un sentimento molto più difficile da gestire siamo molto più aperti e autorizzati quasi a a confortare a comprendere e a trovare pietoso infatti è passata l'ambulanza quelle sensazioni mentre di fronte alla rabbia e lo so perché l'ho vissuta in prima persona quindi lo capisco bene quanto di fronte alla rabbia invece rimaniamo respingenti quanto la rabbia non è un sentimento nobile e che nobilizziamo il più grosso insegnamento che di fronte a queste cose si deve imparare fondamentalmente è tanto quello di trasformare quella rabbia che si incanala in sentimenti autodistruttivi e distruttivi in quello che io chiamo la benzina la tua rabbia non deve essere qualcosa di totalmente distruttivo ma deve diventare quella benzina che ti dà quella spinta per cambiare sia te stesso te stessa e sia anche per spingerti oltre quello che stai vivendo e oltre quello che passa nella tua testa che è la cosa più difficile la cosa più difficile da imparare non si smette mai di imparare perché mi sono messa a fare questo video non la voglio girare questa parte allora come le persone attorno a te devono imparare che tutte le cattivere che possono dirti tutte le cose brutali che possono dirti non sono nulla in confronto a quello che tu hai pensato di te stessa hai tentato di fare a te stessa e hai detto a te stessa allora io mi sono incanalata in un discorso che sinceramente non riesco a fare perché I'm a mess sto diventando un casino quindi cerchiamo di portare a casa questa cosa quindi ripeto è difficile entrarci se non ci siete passati o passate e anche se ci siete passati potete avere vissuto cose molto diverse la cosa da tenere però a mente è che dei sentimenti delle altre persone sinceramente non ce ne frega un cazzo perché li abbiamo sempre sentiti li sentiamo continuamente e sappiamo quanto sia difficile stare vicino a una persona depressa pensate quanto sia difficile invece essere la persona depressa ecco o la persona che sta vivendo la sindrome post-traumatica di una cosa traumatica come quella che ha vissuto Nesta io ho visto e ce l'ho visto qui come l'ho visto in tutti i luoghi in tutti i laghi ok vediamo se ce la faccio arrivare alla fine di sto discorso senza finire coinvolta personalmente cosa che già mi sta riuscendo difficile dicevo la problematica come vi preannunciavo e vi ho già detto cento volte il problema è che tutto il percorso di Nesta e tutto il percorso delle persone che le stanno attorno sono praticamente due cose separate che non si incontrano mai quando è una necessità estrema per una persona che sta vivendo una sorta di recovery peraltro il suo recovery è veramente molto personale molto introspettivo è una cosa che fa su se stessa e con se stessa che è una parte del problema delle persone invece che sono che devono fare un percorso di fuoriuscita perché? perché si allea con delle compagne che sicuramente le danno supporto si apre o parla in minima parte con Cassian ma finisce lì il suo rapporto tra il suo problema e l'esterno finisce lì quando invece il suo problema e l'esterno sono il fulcro della cosa per tutti gli altri ok? che ripongono su se stessi il suo problema cioè come si sentono loro nei confronti del suo problema questa difficoltà viene risolta secondo me con vabbè allenamento militare e pene che è parte del problema poi ripeto io ho davvero apprezzato Nesta primo ripeto perché mi ci rivedo mi ci rivedo nella sua storia nelle sue dinamiche nella sua rabbia nel suo fare casino nel suo rovinarsi distruggersi autodistruggersi been there don't that quindi c'è è chiaro che le voglio bene perché la capisco Nesta se non è gemelli io non so cosa possa essere detto ciò la cosa che a me ha infastidito davvero tanto è che mentre una parte del percorso personale e anche della sua vicinanza magari per quanto diciamo femminismo della sorrellanza che c'è poi di facciata fondamentalmente che c'è insomma quel femminismo girl boss un po' così allo stesso tempo però c'è quella parte lì l'ho apprezzata non posso non apprezzarla non apprezzo un po' la morale che ha tutto il suo percorso soprattutto visto che alla fine il senso è te dovevi da sposare te dovevi fare un mate perché qua è lo standard qua abbiamo degli standard alti tutti ci si sposa e tutte devono desiderare i bambini alla fine questo ci interessa il resto ce ne frega un cazzo e questo ve lo giuro è stato veramente brutto brutto da leggere soprattutto per una persona che in questo momento ha appena passato gli ultimi dieci minuti a sentirsi una merda perché si è rivista un po' tanto in queste dinamiche ecco io non so quanto nell'intenzione di Sarah J. Maas questo sia una dinamica voluta nel senso che abbastanza realistico che all'esterno le persone ti trattino di merda o non comprendano la depressione non siano interessate a ciò che stai vivendo ai tuoi traumi eccetera eccetera plausibile io non lo vedo così intenzionale mi sembrava un po' intenzionale invece rimettere al centro la prospettiva di Ferrer e di tutto l'inner circle parallelamente al percorso di Nesta che lo fa praticamente da sola cioè è tutto nella sua testa è tutto nella casa ok cioè giuro la casa un personaggio migliore di chiunque altro infatti l'ha creata Nesta e così quindi niente io diciamo che questo è il problema fondamentale e tante cose neanche le sto a ripetere perché valgono dal libro 1 ripeto non mi aspetto rappresentazione decente dalla massa né di varie cose cioè in un mondo bianco in un mondo super privilegiato in un mondo muscolare in un mondo dove i rapporti tra le persone sono inquietanti i rapporti interpersonali sono diciamo relazioni super dominanti quello è così dal libro 1 quindi non ha senso ripeterlo qua allo stesso tempo visto che rimane un'autrice iper popolare e rimane un'autrice vendutissima che anche qua in Italia ha acquisito un sacco di popolarità come faccio sempre io ci tengo anche a spiegare cosa non funziona in questi libri potete di nuovo ripeto visto che abbiamo fatto 70 minuti di premesse accettare o non accettare questa cosa per me è parte del problema ecco visto che sono storie molto popolari e dinamiche che si ripetono e che non cambiano nel tempo non cerchiamo neanche di avvicinarci ad altro ecco intanto però teniamo bene a mente quello che stiamo leggendo perché poi dopo leggi in giro che è perfetta rappresentazione bellissimo eccetera difficilmente riesce a vedere invece qual è il problema di ciò che emerge io ripeto ho fatto anche fatica a fare quest'ultima parte di recensione non pensavo perché ero partita davvero molto tranquilla ma questa parte riguarda me questa parte riguarda me come riguarderà tante persone che magari l'hanno vista in maniera totalmente opposta come l'ho vista io si sono riviste perfettamente in tutto e hanno trovato tutto giusto io ho trovato esattamente quei warning che mi avevano dato inizialmente quando io tra l'altro rifuggire la cura è proprio la base di tutte queste cose il trovare difficoltà nell'inserirsi in un ambiente familiare di nuovo ok il problema è che c'è stato presentato l'inner circle come quelli traumatizzati quelli che ne hanno passati di ogni quelli perfetti che hanno sempre una spalla per le persone a cui tengono fair santa fair da sto cazzo da pritian che è perfetta lei sempre buona poverina pure incinta in questo giro è comunque una di quelle che si comporta in maniera peggiore elen non aveva una personalità prima non ce l'aspettiamo ora meno male che c'era un po' castian e meno male che c'erano questa guina e emery perché se no nesta a quest'ora sapete dove era altro che sopra i 10.000 scalini si era buttata giù da un pezzo e ve lo dico proprio per certezza perché non ho dubbi quindi insomma io ci tenevo a fare questa discussione perché davvero leggerlo è stato stimolante al di là di tutto e vi ripeto alcune cose io le salvo ecco non mi aspetto della qualità eccelsa perché comunque ci troviamo di fronte a un romance erotico con degli elementi fantasy annunciati preannunciati eccetera però chiaramente poi bisogna contestualizzare tutto bisogna tenere anche traccia di tutto non è accanimento contro nessuno semplicemente come sempre si parla delle autrici e degli autori popolari come succede un po' sempre su questo canale o nuove uscite interessanti che ci sono state quindi niente io vi chiedo ovviamente la vostra opinione giù nei commenti se l'avete letto se avete intenzione di leggerlo cosa ne pensate se avete visto le cose in maniera molto diversa da me se non ne ho idea quello che vi pare ovviamente sempre con rispetto e con diciamo siamo qua per parlare visto che si parla anche di cose delicate e se potete anche evitare parole che potrebbero bloccarmi il commento bloccarmi il video mi fate un grande piacere io spero che insomma questa recensione abbia avuto un senso sia una discussione che possa aprire diversi temi sui quali confrontarsi e niente che fatica arrivare alla fine di questo è stato un trauma oggi veramente niente io vi ringrazio davvero tanto per essere stati insieme a me dopo tanto tempo torniamo ormai non sono tornata su questo video poi vediamo quando torniamo perché comunque è ancora un po' difficile stare poi ne parliamo e niente io vi ringrazio tanto per aver passato un po' di tempo insieme a me spero che questo contenuto e questo video vi siano piaciuti e direi che per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao